Dandy Days, maestri di eleganza per le vie del centro, da raduno nazionale passato a internazionale, tantissimi volti nodi del piccolo schermo arriveranno ad Arezzo per visitare la bellissima città, la Fiera Antiquaria, con i loro tesori. Ci stiamo allargando alla Spagna, dal Belgio e dall'Inghilterra, e tutti per solidarietà nei confronti di Casa Tevenin. Ad Arezzo i maestri di eleganza da tutta Europa. I Dandy Days sono infatti pronti a tagliare il nastro dell'ottava edizione di scena il 1 e il 2 giugno in concomitanza con la 56esima edizione della Fiera Antiquaria. Arricchiscono l'edizione della Fiera che già, essendo la Fiera del compleanno, viene, come dire, infiorettata da parte della Fondazione. È una Fiera che ci auguriamo con molte presenze e i Dandy saranno una parte portante di questa edizione. e con tutte le manifestazioni che hanno messo in scaletta. Gli eventi in cartello sono il primo concorso di eleganza automobilistico d'epoca, la scuola di ballo swing al prato di Arezzo, per arrivare alla defilé nel sagrato del Domo di Arezzo, con artisti provenienti da tutta Europa. Noi anche come provincia abbiamo visto bene di concedere gli spazi dell'Atrio e di Galleria di Casoli, perché il fenomeno Dandy non è solo qualcosa di eleganza a sé stante, ma c'è un mondo, c'è un mondo di produzione, di artigianalità, che sicuramente rende onore anche alla storia artigiana della nostra città. Anche quest'anno l'evento rinnova il suo scopo benefico. I fondi raccolti saranno destinati a Casa Tevenin, che accoglie bambini con problemi familiari, difficoltà scolastiche, ragazze e madri in situazioni di disagio. Questa volta lo dedichiamo a quattro nuovi appartamenti che realizzeremo a brevissimo, sempre in via Sassoverde, accanto alla nostra sede istituzionale, dove saranno ospiti le donne in situazioni di disagio, donne vittime di violenza, quindi è un impegno importante sia come fondazione, ma che ha bisogno di tanti piccoli contributi, e questo tolgo anche la parola piccoli perché è un bel contributo.